Mi raccomando ragazzi, stasera vedetevi tutti. L'ultima puntata dei Medici, ieri ha fatto ascolti straordinari, per me è stato un onore aver avuto l'opportunità di aver fatto parte come regista, non come regista, come fotografo anche se non accreditato, nelle prime due stagioni, la seconda e la terza, con artisti come Alessandra Mastronardi, ringrazio il fotografo Vittorio Nomodezzurini per aver scelto le mie foto, la regista attuale Christian Duguay e anche i registi precedenti, Daniel Sherman, che interpreta, dice, Lorenzo il Magnifico è stato straordinario, tra l'altro è stato anche un mio antenato, è pazzesco ragazzi, ieri abbiamo battuto Barbara D'Urso, questo festival mi ha permesso di arrivare veramente, di far parte dei festival più importanti al mondo, al festival di Los Angeles, Los Angeles Film Festival, al festival di Firenze, mi ha permesso di arrivare a Cannes, a Cannes, il festival più importante d'Europa, più importante del festival cinema di Venezia ragazzi, pazzesco. In questo film ci sono stati tra l'altro bravissimo Paolo Buonvino, Buonvino, poi c'è anche la bravissima Skin, la ringrazio la sua, il I want to thanks to your skin so much because her composition and soundtrack almost so spectacular, ma poi ci sono stati grandissimi artisti, Dustin Hoffman, non è un'icona a causa di tutte le donne che è molestato, però è un artista pazzesco, poi ha Alessandra Mastronardi, Raul Bova, Neri Marco Re, il cast è stato straordinario, Aurora Ruffino, Riccardo Polizzi Carbonelli, veramente showbine, veramente insomma artisti di un livello immenso.